Il boato, provocato dal parziale crollo di un vetusto edificio, domenica mattina ha dato la sveglia agli abitanti di Cortile del Po a Favara. L'immobile, una faticente palazzina a due elevazioni che dista poche decine di metri dall'ufficio tecnico comunale di Piazza Mazzini, fortunatamente era disabitato. Secondo quanto riferitoci da alcuni residenti, il collasso di un'ampia fetta muraria del prospetto principale sarebbe avvenuto intorno alle ore 6.45. Sul posto, per le verifiche del caso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti del locale corpo di Polizia Municipale. Dopo aver escluso il coinvolgimento nel crollo di persone, per ragioni di sicurezza, l'intera area è stata interdetta al pubblico. A scopo precauzionale è stato disposto anche lo sgombero di tre immobili addossati alla palazzina. Si tratta dei due edifici posti ai fianchi, con ingressi rispettivamente in Cortile del Po e Cortile Paganella, e dell'immobile retrostante che si affaccia su via tenente Colonnello Stuto. Momentaneamente sono state tre le persone sfollate. Cortile del Po non è nuovo a episodi del genere, ancora visibili in zona, i voti creati dalle demolizioni effettuate in passato dopo il piano di verifica strutturale degli immobili del centro storico. Operazioni di controllo che nella città dell'Agnello Pasquale si avviarono all'indomani del tragico crollo di Via del Carmine del 23 gennaio 2010. Dalle testimonianze raccolte comunque, sembra che l'edificio di Cortile del Po, nonostante le sue precarietà, non fosse stato interessato da ordinanze di sgombero o messe in sicurezza. Provvedimenti di rimozione pericolo che adesso invece interessano l'immobile. Una nuova ferita, un altro squarcio quindi, che si aggiunge nel già segnato centro storico di Favara. Nonostante le tante demolizioni eseguite, sono ancora numerosi i vecchi immobili che necessitano di ulteriori verifiche tecniche dei relativi lavori di messa in sicurezza. L'azione di salvaguardia del centro storico e della pubblica incolumità non può e non deve limitarsi al solo abbattimento o transennamento di un immobile il cui stato strutturale è presso che è uguale a quelli che lo circondano. Anche nel caso di Cortile del Po, la fortuna ci ha messo lo zampino, ma come detto più volte in passato, la dea bendata potrebbe presto stancarsi di intervenire per episodi del genere. La morte a Favara delle sorelle Bellavia dovrebbe indurre tutti gli organi responsabili, proprietari in primis, a evitare il ripetersi d'eventuali tragedie. Per la cronaca, a Favara si era sparsa la voce che il crollo di Cortile del Po fosse stato causato da una scossa di terremoto. Evendo sismico che effettivamente ha colpito il distretto costiero grigentino, ma che è stato successivo a quanto avvenuto nel centro storico di Favara. Una lieve scossa di magnitudo 2.9 con epicentro tra i comuni di Palma di Montechiaro e Camastra era stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10.30 di domenica, quindi oltre tre ore e mezza dopo il crollo.